La Giunta è favorevole all'obbligo di Green Pass fino a che dall'attuale quota del 64,3% di persone vaccinate in Alto Adige non si raggiungerà l'80%. Chi non si vaccina dovrà fare un test e saranno introdotti screening aggiuntivi per gli stagionali. A fronte di una situazione che ovunque sta leggermente peggiorando si punta molto sulle vaccinazioni. Gli attuali ricoveri in terapia intensiva riguardano persone più giovani e non vaccinate. Lo hanno spiegato il presidente della provincia Arno Compacere e l'assessore alla sanità Thomas Widman intervenendo in consiglio provinciale all'inizio della sessione di lavori di settembre. Consiglieri e consigliere tendenzialmente favorevoli alle vaccinazioni tranne in un caso hanno invitato a non fomentare divisioni nella cittadinanza, mantenere la possibilità di fare tamponi, considerare anche la presenza di anticorpi, sostenere finanziariamente i pazienti long covid. Lo stesso Compacere e l'assessore all'ambiente Giuliano Vettorato hanno poi presentato la strategia di sostenibilità della Giunta orientata a raggiungere nel 2030 la quota dell'80% di utilizzo di fonti rinnovabili, a ridurre a 3,5 tonnellate la CO2 pro capite, agricoltura compresa, a diminuire del 15% il consumo di energia termica da fonte fossile, a promuovere teleriscaldamento e risanamento energetico dei condomini. Il piano sarà discusso con i cittadini e i stakeholder nell'ambito di un processo partecipativo. Il monitoraggio sarà continuo. Dopo che Magdalena Amoff è stata eletta quale ulteriore rappresentante del Consiglio, oltre a Sven Knole e Andreas Leiter-Reber nell'Assemblea dell'Euregio e dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio del Consiglio con avanzo di amministrazione di 4 milioni, il Plenum ha approvato le mozioni di Enzian per la pista ciclabile sulla strada delle Palade tra Lana e Il Passo e di Fratelli d'Italia per promuovere e finanziare le opere necessarie per risolvere il problema della falda di Sinigo. Approvate con la firma della SVP le proposte dei Frei Eitlichen per sollecitare in Parlamento la copertura da parte dell'Inps del periodo di quarantena anche per i genitori di fidi contagiati e del Gruppo Verde per il contrasto delle emigrazioni, in particolare delle giovani donne, dalle zone rurali. Approvate nello spazio della maggioranza tutte le mozioni presentate dalla SVP volte a istituire un tavolo di lavoro per elaborare misure di riqualificazione energetica, promuovere nelle scuole e con le associazioni l'alfabetizzazione mediatica dei giovani, estendere l'obbligo del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro favorendo la vaccinazione e garantendo test a cittadini vaccinati e nelle scuole dove va evitata la quarantena nel caso di positivi e a ridurre gli sprechi alimentari in collaborazione con imprese commerciali, produttori e organizzazioni di beneficenza. Grazie a tutti.